ma si mettiamo la terza proviamo il colletto da batman ma fa troppo caldo a parte il millepiedi ho E' un'altra parte. Un'altra parte ma dopo il secondo devi guidare, lei stava via per i fatti suoi guida lei ma dopo i fatti suoi Grazie a tutti. 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 La prossima volta li portiamo tutti lo puliscono. Andiamo Vito, andiamo la segre lì. Via, vai avanti. Via, 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 via. Ai, ai, via, via, via.